Cominciamo la serie intitolata Complici della speranza per vedere come il popolo di Dio nella storia ha vinto il coronavirus con cui si è scontrato che sembravano giganti e invincibili, mari infrangibili però noi oggi, alla luce della parola di Dio scopriremo la strategia per affrontare e per vincere queste lotte perché dice San Paolo, siamo più che vincitori però abbiamo bisogno di una strategia e abbiamo 14 casi in cui il popolo di Dio affrontò questi coronavirus Iniziamo Primo, dice la parola di Dio nel Vangelo di San Marco che dopo aver lavorato molto, un giorno Gesù stanco dice ai discepoli, passiamo all'altra riva Egli se ne stava poppa sul cuscino e dormiva e si levò una tempesta mentre erano in mezzo al mare a mezzanotte in mezzo al mare a mezzanotte per essere ancora più drammatico e la barca portata dalle onde saliva e scendeva e le onde colpivano il legno della barca mentre Gesù era addormentato Gesù era addormentato placidamente e i discepoli erano spaventati quelli che avevano esperienza perché sapevano a cosa stavano andando incontro i più giovani perché non sapevano a cosa aspettarsi che cosa fare in queste circostanze tornare al porto di partenza o provare ad arrivare a destinazione stavano in mezzo al mare era indifferente ed era mezzanotte quindi era il momento più buio e dice il Vangelo il Vangelo di San Marco al capitolo 4 versetto 35 e seguenti che i discepoli presero la decisione di svegliare il Maestro che non si era svegliato con tuoni della tempesta che non si era svegliato con il rumore delle onde che non si era svegliato con l'acqua che bagnava i suoi piedi dovevano svegliarlo magari scuoterlo e lo fanno chiedendogli Maestro gli dicono Maestro non ti importa che moriamo per te è indifferente se moriamo qui in mezzo al mare il tuo cuore non si commuove per quanto stiamo soffrendo per te è lo stesso la nostra vita o la nostra morte non ti commuovi Signore dove sei perché dormi perché non agisci e lo svegliamo quando Gesù si svegliò fermò il mare anzi il vento perché era la causa di quelle onde non va alle conseguenze che erano le onde forti ma va alla radice che era il vento che alzava le onde e qui abbiamo il primo insegnamento non si deve lottare contro le conseguenze bisogna andare alla radice che sta provocando tutto questo e lo vedremo in altri momenti quali sono queste radici però una volta sveglio Gesù dice daci calmati e il vento si calmò e arrivò la bonaccia e si rivolse ai suoi discepoli dicendo perché avete paura uomini di poca fede la sua presenza aumentò la loro fede e guarirono dalla paura che era la paura di morire forse il problema più grande non era la tormenta ma era la paura della tormenta non erano le onde ma era il timore di morire annegati in mezzo al mare Gesù quindi fa due cose primo dice ai discepoli perché avete paura uomini di poca fede allora manca la fede questo è quello che succede loro c'è una storia che racconta di un bambino in un aereo durante una turbolenza e la hostess si avvicina e dice bambino non hai paura guarda come si sta muovendo l'aereo il bambino dice molto tranquillo no come no guarda le turbolenze il bambino dice no mio papà è il pilota questa è la fede sapere che mio papà è il pilota e che non si muove la foglia di un albero senza il suo consenso diciamo allora a Gesù svegliati tu sei il nostro pilota qui abbiamo la strategia per vincere questo coronavirus svegliare a Gesù e dirgli tu sei il pilota Amen a Gesù Grazie per la visione!